Sì, sì, adesso prendo attratti. Sì, sì, dell'acqua, 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 dell'acqua rurale. Sì, sì, l'acqua, dell'acqua, 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 dell'acqua. Sì, l'acqua è stata riparta, ogni anno, ogni anno, ogni anno, se voi vedete lo spessore del posto, ci sono due o tre spessori, uno diverso dall'acqua. Perché ogni anno è stata fatta una riparazione, non è servita a niente. Cos'è quell'acqua lì? È l'acqua della condotta dell'acquedotto. Non si può mangiare la televisione qua. Noi abbiamo una torgiva, abbiamo una torgiva, abbiamo quest'acqua, la misura, non so perché, perché poi alla fine non è servita a nessuno quest'acqua, non è accesso a nessuno di quest'acqua. Noi abbiamo una piccola azienda qua giù. No, giustamente sono... Sono isolati. L'anno scorso ha subito questa fana enorme, quindi distruzione totale di un nuovo appezzamento, e l'alluvione dell'altro giorno ha causato questi laghi artificiali che si sono creati. Quindi non so se possiamo andare avanti così. Di chi è questo terreno? Questo è di un prossimo abito mio. Tra l'altro siamo confinanti, la mia azienda è stata la risposta, però ha subito minor danno. Questo è proprio una cosa che è in qualche tempo. E qua dovremmo pagare l'IMU. Dove siamo qua? Siamo nel territorio di Miglionico, agro di Miglionico, quasi ai confini con Grottole. Quello che fiume è? Quello è il fiume Basento, qui ci troviamo sul Crinal tra il Basento e il Bratano. Ok, grazie.